Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi come ogni metà mese, ogni quindici del mese, sono qui per parlarvi e per vedere insieme a voi l'anteprima Panini Disney riguardante le uscite in edicola, libreria e fumetteria dei fumetti Disney per quanto riguarda questa volta il mese di settembre 2022. Siamo a metà luglio quindi andiamo a vedere poi i fumetti e le cose che usciranno due mesi dopo e quindi andiamo subito, come potete vedere Topolino 3484 che avrà il Topolibro La Danza Raccontata da Topolino. Ovviamente questi gadget come il Topolibro sono acquistabili in sovrapprezzo quindi 9€ a me sinceramente non interessano. Poi tutti i numeri di settembre che sono il 3485, 3486, 3487 e 3488, ci saranno anche il quaderno Notes con il Notes di Topolino in due versioni di colore. Quindi questo è già più interessante, mi interesserebbe di più, su 3485 6,50€ potrei anche prenderlo. È uno dei pochi gadget che mi interesserebbe avere insomma. Arrivano gli scacchi di Topolino, paperopoli contro Topolinia, bianchi contro neri, scegli da che parte stare, schiera le tue pedine, lancia la tua sfida e dai scacco matto al tuo avversario. Interessanti questi scacchi, a chi potrebbero interessare, a me sinceramente non interessano, se le uscite ovviamente di settembre 6,90€ non è nemmeno tanto di sovrapprezzo perché 3,20€ viene soltanto il Topo, ovviamente. Topolibro Il Manuale degli Scacchi. Questo 7€ Disney Special Events 33, 128 pagine. Sembra abbastanza interessante, quindi tutto basato sugli scacchi a settembre per quanto riguarda il nostro Topo. Nonna Papera e i racconti attorno al fuoco numero 1. Cos'è questo? Ragazzi lo sto vedendo per la prima volta come voi, non ho dato per niente uno sguardo, lo sto vedendo come voi per la prima volta. Le Serie Imperdibili 5. Settembre esce 11,50€, 144 pagine. Cimino e Cavazzano. Interessante questa uscita. Il racconto di Tornalfuoco di Nonna Papera, che è un personaggio che fin da piccolo mi è sempre piaciuto. Qui vediamo Paperina, Paperino, Zeo Paperone e qui qua e qua. Quindi tutta la famiglia quasi al completo. Mancherebbero soltanto Castone e Paperoga e poi altri, vabbè, Archimede anche se non è parente, insomma. Interessante. Reginella, le altre storie di Rodolfo Cimino. Questi sono volumi da libreria e fumetteria, 15€, 20€. Sinceramente non mi interessa perché il personaggio di Reginella, pur essendo un personaggio abbastanza storico, che è apparso in passato sulle pagine di Topolino, comunque scritte da Rodolfo Cimino, però sinceramente non mi interessa. La ballata di John D. Rockerdack. Cos'è questo? Un altro volume di 12€, 80 pagine. Topolino Extra, iniziative. La collana Topolino Extra, vabbè, queste sono uscite che sinceramente a me non interessano, però c'è a chi piace, insomma, quando ci sono uscite così carine. Per quanto riguarda libreria e fumetteria, vediamo a settembre che altro uscirà. Io Paperinic, le più belle storie a fumetti dedicate a Paperinic. A settembre, 25€, questo è un volumone da libreria e fumetteria. Le follie di Eta Beta, parola di extraterrestre, 29,90, un altro volumone da libreria e fumetteria, storie, come vedo, dai disegni abbastanza datate, forse anche anni 50. Interessante. Anzi, qua dice tra il 47 e il 48, quindi ci sono andato vicino. Arrivano i nuovi topodollari, di nuovo i topodollari, disegni questa volta inediti di Luca Usai, e in più a grande richiesta è possibile ordinare il raccoglittore delle banconote. Di nuovo i topodollari, una volta i paper d'oro, una volta i topodollari. Con cosa ci saranno? Ad ottobre addirittura? Vabbè, ragazzi, non mi interessa avere questa oggettistica. Quando li mettono, insomma, con vari fumetti Disney, sì, però io non è che li acquisto tutti. Io, ultimamente, acquisto comunque Topolino, che è il settimanale, il mensile dei grandi classici Disney, i bimestrali al manaco Topolino, al manuale delle giovani marmotte. Il resto sono tutti acquisti occasionali quando capita qualcosa che mi interessa. Guai fantastici e come evitarli? Sui classici Disney, 192 pagine, 4 ore e 70, il classici Disney 531, ma doveva essere il numero 20. Interessante questa uscita, vediamo, sono sempre i guai che cercano Topolino, le storie di chi sono. Silvia Ziche, Topolino e la crociera nera, Topolino e la saga burocratica, e la mai ristampata, Minnie e un guaio coi fiocchi. Sempre interessante, i classici Disney è un bimestrale, è un fumetto che io non acquisto sempre, ho acquistato 4 o 5 numeri, ma non lo prendo sempre perché già sono tanti i fumetti che acquisto, ragazzi, non leggo solo Disney, chi mi segue lo sa. Paper Fantasy numero 110, 4 ore e 30, per 144 pagine, questa è una serie che non ho mai seguito, è una serie che è ancora contata con la vecchia, quindi 110, ma non so a che numero è arrivato, mi sa attorno al 26, 27. Devo chiedere al mio amico Michele LM, canale YouTube, mio collega e amico che saluto, lui li ha tutti Paper Fantasy. Noi amici, io Topolino, con la nuova banconota, quindi col Topo Dollar, è uscita ad ottobre questa, 4 ore e 90, per 192 pagine, non mi interessa sinceramente. Il numero 508 di Paperino, che uscirà a fine settembre, 3 ore e 70, per 192 pagine, vediamo che cosa c'è di storia, la stessa di Quacktown, appassionati di calcio, numero imperdibile per l'appassionato di calcio, ah, io sono un appassionato di calcio, quindi potrebbe interessarmi, il Paperino è un fumetto che per alcuni mesi ho acquistato, ho acquistato pure il numero 500, ma lo acquisto solo occasionalmente. Paperinic arriva numero 70, quindi numero tondo per Paperinic, 4 ore e 20, 192 pagine, storie anche, vediamo che cosa c'è, la disfide dalle nespiti di Alessandro Gatti e Marco Mazzarello, il quinto capitolo di Diary of a Wacky Night, il ciclo di storie ambientato in epoca medievale. Sì, Paperinic è interessante, ma io ne ho soltanto uno, non l'acquisto quasi mai. Come Zio Paperone, che qui arriva numero 51, 3 ore e 70, per 192 pagine, nella storia superstar di questo numero è del grande Carl Barks, l'appassionante Zio Paperone e Lores d'Arabia, del 1964, bella la copertina comunque. Questa copertina dovrebbe essere credo di Alessio Coppola, no, Alessio Coppola su Paperino, su Zio Paperone non sono sicuro, perché è un fumetto che non acquisto mai. I grandi classici Disney numero 81, la copertina penso che ovviamente è solo abbozzata, quindi non sarà questa, 5 euro per 240 pagine, questo l'acquisterò ovviamente. Il numero 81 dei grandi classici Disney si apre con Jerry Siegel e Romano Scarpa, autori di Paperino Spia, che vede Paperino ingaggiato da Zio Paperone per indagare sul misterioso comportamento di Archimede Pitagorico. Interessante. Ci saranno anche Carlo Candy e Luciano Bottaro, lo prenderò sicuramente. Disney Big numero 174, 6,50 euro per 416 pagine. Oltre 400 pagine, non lo conosciamo, il Disney Big ne ho due, tra l'altro non ne ho lette nemmeno tutti. Una collana magari sì, carina, simpatica, estiva più che altro da spiaggia, con tutte quelle storie, ma pesante da tenere in collezione perché è bella doppia. Donald Quest, cos'è questo? Arriva a Donald Quest, il gioco fantasy con Paperino, un divertente fascicolo con alcune storie fantasy. 9,50 euro, quindi a settembre uscirà anche questo. Il Club Supereroe numero 8, 5 euro per 144 pagine, per questo bimestrale, questo è il numero di settembre, quindi è arrivato già al numero 8, mai acquistato, sinceramente non mi interessa. Le più grandi avventure, queste sono le spaziali, 192 pagine, uscirà a settembre, anche questo mi sa che è bimestrale, 5,50 euro, questi ho un paio di numeri, ma è un altro fumetto che sinceramente non mi attira. Come The Best of Paperopoli, il deposito di Zio Paperone, una nuova banconota, 6,20 euro per 288 pagine. Poi abbiamo tutti al lavoro le agende di Topolino, cos'è questa? 6 euro in regalo il notebook di Topolino disponibile in due colori. Eh, questo è il notebook che potrebbe interessarmi, però è ad ottobre, quindi la maggior parte delle uscite sono a settembre, e poi finisce qui. Ragazzi, allora, io acquisterò come al solito il Topolino settimanale, i grandi classici Disney, che è il mensile, e per il resto non credo che acquisterò altre cose. C'è questa cosa qui di Nonna Papera, che potrebbe interessarmi, anche il gadget del blocnotes, del notes, del quaderno di Topolino, però sinceramente, ragazzi, i miei acquisti saranno un po' ponderati, perché siamo il 15 luglio, agosto, e dietro l'angolo dovrò fare anche un piccolo viaggio, credo, se mi va bene. Non so ancora se lo farò ad agosto o inizio settembre, quindi dovrò risparmare un po' di soldi, però il Topolino, classico settimanale, più i grandi classici Disney, questo mese di settembre, sicuramente li acquisterò. Fatemi sapere nei commenti cosa acquisterete, cosa vi ha incuriosito di questa anteprima Panini Disney 371, con le uscite, le dico, la libreria fumetteria, del mese di settembre 2022. E ragazzi, io vi ringrazio come al solito, mi raccomando, fate i bravi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!